Un sogno chiamato bebè si chiama così la fiera che verrà ospitata a Milano il prossimo 15-16 maggio apparentemente una innocente carmes per promuovere la fertilità ma chi ne ha visitato lo scorso fine settimana l'edizione parigina ha potuto appurare che dietro c'è ben altro Nella capitale francese è stata allestita un'esposizione per promuovere la commercializzazione della maternità surrogata e vi hanno aderito numerose cliniche specializzate in gravidanze portate a termine attraverso l'utero in affitto Tutto questo non è passato inosservato e adesso il fatto che Milano ospiti lo stesso appuntamento ha innescato come avvenuto dal resto già in Francia polemiche e contestazioni Da parte del mondo politico arriva poi la richiesta al Ministero della Salute di annullare questo evento In Italia c'è una legge, proprio la legislazione non consente il commercio di parti del corpo e la legge 40 punisce anche la pubblicità di eventi la pubblicità di fatti come la surroga materna la commercializzazione di gamete o di embrioni quindi non viene punito solo il fatto di fare surroga di maternità o commercializzazione di gamete in Italia ma anche la pubblicità e l'organizzazione degli stessi quindi è un evento grave quello di commercializzare la maternità e di pubblicizzare queste forme di commercializzazioni e speriamo che in questo caso venga rispettata la legge che impedisce questo e sanziona chi lo fa